E' stata aggredita da un passeggero mentre il convoglio era fermo alla stazione di Bibiena, vittima del brutale episodio una capotreno dipendente di TFT che si era avvicinata per procedere con il controllo dei biglietti di viaggio. E' successo questa mattina, l'aggressore dopo aver protestato per essere stato scoperto a bordo senza avere con sé il ticket, ha smintonato la donna causandole una distorsione alla spalla e al braccio destro. Sul posto forse dell'ordine e sanitari, accompagnata in pronto soccorso, la donna ha ricevuto una prognosi di 20 giorni mentre l'uomo è stato denunciato. L'aggressione subita da una nostra dipendente è un fatto grave che desta grande preoccupazione, ha commentato Maurizio Seri, amministratore unico di TFT. Purtroppo quello di oggi però è solo l'ultimo di una serie di episodi. Nelle scorse settimane, in seguito alle preoccupazioni espresse dai sindacati, avevamo scritto una lettera indirizzata al prefetto e per conoscenza ai sindaci dei comuni soci e alle forze dell'ordine per segnalare l'evoluzione negativa della sicurezza a bordo dei treni TFT operanti nelle linee LFI e in alcune stazioni e fermate. In particolare sono stati evidenziati fenomeni sommersi di spaccio e assunzione di droghe con frequenti risse e atteggiamenti intimidatori a bordo. Dopo il fatto di oggi, conclude Seri, è quanto più urgente per tutelare i lavoratori e i viaggiatori il coinvolgimento e l'intervento dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Altrettanto importante ed auspicabile è un maggior monitoraggio a bordo dei treni. Oltre un anno fa TFT e LFI hanno attivato un servizio di vigilanza privato sui treni, molto apprezzato dai dipendenti ed utenti, ma purtroppo da solo non può bastare.